Trasferta Mara per la Battipagliese, uscita sconfitta dal Canada Cioffi di Cervinara per due reti a uno. La beffa per i bianconeri è arrivata al quarto dei cinque minuti di recupero del secondo tempo, quando Zerillo ha beffato Prima Dei con un rasoterra nel cuore dell'area di rigore. Pochi minuti prima era stato Munar a rispondere al momentaneo vantaggio di Romaniello con un calcio di punizione dai 30 metri su cui nulla ha potuto l'estremo difensore avellinese. Grazie per la visione!